Sono contento solo se L'intervisto per la strada Per la strada, per la strada, per la strada Per la strada, per la strada, per la strada E allora amici eccoci qua Bentrovati a tutti quanti, quanti, tutti, tutti quanti Ma che meraviglia ritrovare voi Ogni giorno della mia esistenza Vengo qua e vi ritrovo E dico abbiamo ritrovato tutti quanti Grazie, grazie perché senza di voi Noi non saremmo niente, proprio zero Sotto zero, proprio scavate nelle profondità Della terra dove c'è un nucleo Noi saremmo a fianco di un nucleo Così vedi, mentre voi grazie al vostro sostegno Cari sponsor e soprattutto caro pubblico Su social, su social Stanno facendo numeri da paura Mi è arrivato un dato Un dato, non un dato Lo dico dopo Adesso andiamo subito a linea di cenaro Non la vogliono vedere Sarà questo il vero motivo? C'è la proprietà? C'è ma non la vogliono vedere Non la vogliono vedere Non la vogliono sentire parlare Ma perché dobbiamo parlare che abbiamo i poveri? Ma perché dobbiamo parlare che abbiamo la gente in fila Ogni mattina che va a cercare di portare il pane a casa Che si va a prendere le buste della spesa La Caritas Ma perché dobbiamo nasconderla? È brutta la povertà La gente della povertà Non ne vuole sentire parlare Questa è la verità Buongiorno Come va? Bene Vai a lavoro lo so Buongiorno Buongiorno Come va? Bene Ah, bene Grazie Vos sei francese? Olanda 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 Famiglia sardiana Ah, famiglia sardiana Senta, ma in Olanda Esiste la povertà La povertà Povertà La povertà La povertà La povertà La povertà Come la cucina povera La povera Sì Sì Esiste? Sì Molta? Molta? Sì 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 E cosa fanno? No Penso sì Certo, certo Cosa fanno per aiutare queste persone? Le persone aiutano questa famiglia? Sì Sì Non le persone Le persone aiutano anche la gente La comida La comida La comida Sì Quindi il Stato E le persone aiutano questa famiglia? Sì Sì Grazie Buon Natale Buon Natale Grazie Non è una Natale Siamo una famiglia Sì 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 All Solide Bravo Però è simpatica Molto simpatica Sì 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 Proprio no Le dico un po' quello che hanno detto gli altri Io sto dicendo Esiste un ingrediente Una ricetta Una bacchetta magica Per poter risolvere il problema della povertà Qualcuno ha risposto che dovremmo essere tutti quanti più francescani Cercare di non rincorrere per forza il benessere intendo quello materiale Qualcuno ha detto che secondo lui la povertà la miseria è un evento naturale in questo mondo E qualcuno invece ha detto che la povertà esiste e chi sta bene non la vuole neanche vedere Perché proprio non la vuole vedere Si ricorda quella canzone di Mina? Parole 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 Allora Sono belle frasi Ci possiamo riempire tutti la bocca con queste parole Però è un problema che va governato dall'alto Deve esserci una volontà politica di tutti Perché questo problema che non si risolverà mai potrà essere perlomeno migliorato Purtroppo io credo che in questi tempi, di questi tempi il nostro governo guardi altrove E magari si favoriscono le banche, non si fanno pagare i super profitti, si fanno i condoni fiscali E la sanità, la povera gente è dimenticata, è un problema politico Non che gli altri prima fossero molto meglio ma qui c'è proprio una volontà politica Non è veramente triste questa cosa È indecente Indecente Però ognuno guarda la sua parte politica e il suo piccolo orto Quindi lei è convinto che comunque chi sta bene economicamente mette i paraocchi e proprio non vuole neanche vederlo Cioè per esempio io a volte dico che qui a Cagliari come tutte le altre città per carità C'è gente normalissima che va in fila alla Caritas o a mangiare la mensa o va a prendere la bussa della spesa Almeno una settimana sia una settimana no appunto in questi centri L'egoismo fa parte della natura umana Sovente più si hanno soldi e più non si è propensi a guardare chi non ce li ha Questo è così però ripeto chi ha tanti soldi paga in ragione di quello che possiede Non il contrario che magari si porta via dove è facile perché magari gli impiegati non possono Viene preso subito È una politica voluta così e poi questi momenti storici sono Poi l'egoismo l'umano lo vediamo anche dalle guerre Israele, l'Ucraina Insomma l'uomo è egoista i politici sono purtroppo guardano il loro collegio elettorale Senta una curiosità io ho visto che lei ha questi tatuaggi che sono particolarissimi Mi hanno incuriosito molto Vorrei raccontarmeli perché sono troppo curioso Se vuole Sì allora today Mirta Mirta è il mio cagnolino Today oggi questo è il mio presente però è un po' così Poi questo è Ariel il mio gattone che è morto il mio primo tatuaggio Ariel un gattone meraviglioso poi questi sono tutti simboli di speranza di libertà Vede qui ci sono le ali e qui si fa riferimento queste iniziali rimandano a delle persone carissime Che avevano la medesima iniziale e non ci sono più Lui ha girato molto? Beh io ho girato moltissimo Per lavoro? No il mondo per piacere E sono andato via da Cagliari per fare l'università a Roma e poi ho lavorato sempre a Milano Sono architetto ero il direttore del Cenacolo Vinciano Eh complimenti E sono tornato a vivere qui a Cagliari da un anno Ah come si trova? Come mi trovo? Abbastanza bene una città di provincia Anche qui avrei voluto che chi guida la città avesse Vede lì ho attaccato una parte politica Qui un'altra In particolare il sindaco Zedda Avevamo, sono architetto ripeto Avevo, ero fiero e felice che via Roma diventasse una cosa che dava lustro alla città Col progetto di un archistar Stefano Boeri e tanta cosa e tanta roba e tanta roba E forse il sindaco non sa che è appena uscito un articolo importantissimo sul New York Times Che fa vedere che Cagliari sta vivendo un momento di appeal con tanti turisti E che addirittura dice il New York Times Si avvale, si fa grande anche con questo progetto di un archistar che tutto il mondo ci invidia Cosa fa Zedda? Ci priva anche del piacere di dire Se abbiamo un'opera può piacere o meno ma è di un grande che ha vinto premi internazionali A lui piacciono le cose di provincia E' molto difficile uscire dalla provincia Ecco, è una miopia che veramente la città non merita Questo sindaco, io l'ho votato ma non lo farei mai più Ad essere da poco Sì, ma ha capito Ma magari adesso riflette su questa cosa Ma no, l'ha già detto che deve capitozzare il progetto di uno che... Vorrei capire chi sono quelli che hanno esaminato il progetto e hanno stabilito che non andava affatto Lui sta difendendo la sua categoria, bravo No, ma non la mia categoria Sto dicendo che la città fatica a diventare, capito, a darsi un'altra marcia Un'altra veste E questo sindaco è la prova Provincia è meglio per lui Vuole stare in provincia, nella provincietta E magari, ecco, no, anche no Allora, se questo dovesse andare in onda Posso fare un appello Sindaco Zedda Si legga l'articolo del New York Times E faccia una bella riflessione I sardi, i cagliaritani meritano un progetto finito Di cui la giunta precedente si prende la responsabilità Non lei che arriva Senta, senta, ma giusto per chiudere L'articolo sul New York Times Dove lo troviamo? Beh, se andate su internet E quanto tempo fa è stato pubblicato? No, sarà di un mese fa E' un articolo meraviglioso Io l'ho mandato a tutti gli amici E' importante Il sindaco Portatelo al sindaco Grazie Salute Arrivederci Ciao ragazzi Vabbè, per la strada Ragazzi Eccoci qua, cari amici Siamo tornati grazie al Cennaro Che continua il suo sondaggio Per parlare dei social Perché la pagina di questo ragazzo 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 Uomo Uomo Questa c'è un'età indefinita Non invecchia mai Comunque Stiamo facendo numeri da paura Allora mi hanno detto Che siamo a fine settembre Questa pagina di questo Cennaro Felicità Ma Gabbino, io ho chiuso la telefonata con il nostro amico Piero Ci sono 38 gradi Mi sto prendendo l'isolazione Ma sei sicuro che questa ruota la rigonfiano? Perché io non vedo nessuno qua Roberto Loro sono i migliori Eh ho capito Stanno per aprire Allora aspettiamo Aspettiamo Eh vabbè aspettiamo Impresa Fulebre Fioricoltura Testa 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio Autocarrozzeria Sandro Cirina Verniciatura a forno Banco riscontro millimetrico Box tintometrico Piano aspirante Zona carteggiatura Igenizzazione auto Soccorso stradale E auto sostitutiva Studio dentistico Piras Denotti Un unico centro per tutti i trattamenti Uno staff attento e disponibile Pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato Mirato a risolvere con serenità Ogni tipo di problema del cavo orale Studio Piras Denotti.it Il nostro obiettivo è il tuo sorriso Carface GT Vendita auto multimarca usato pronta consegna Acquisto programmato Finanziamento personalizzato in sede Carface GT La nostra passione nei motori La vostra garanzia nell'acquisto Perché noi ci mettiamo la faccia Le firme più glamour di occhiali da vista e da sole E di prezzi più irresistibili Per far scorta di lenti a contatto Ottica Cannas Al centro di Dolianova Il centro per il benessere dei tuoi occhi Alle porte di Dolianova In un ambiente informale accogliente Bardis Propone pizzeria E cucina di mare e di terra Per l'aperitivo La cena O il tuo evento su misura Ti aspettiamo In via Einstein 2 Grazie direttora Per avermi dato nuovamente la linea Un'altra mail Che trovo sempre Ecco nelle mie cose private Dice Se sorridi alla vita Ti sorriderà Non è solo un moto Ma una sana verità Certo Dobbiamo sempre sorridere alla vita La vita ha un fascino Dicevano certi religiosi E' un mistero meraviglioso La vita è figlio della scintilla Della misericordia Di Dio Onnipotente Che ha voluto creare un uomo Ma l'uomo deve sorridere alla vita Deve trovare la gioia Giorno per giorno Anche nelle piccole cose Sovente cosa dicevano i grandi filosofi I greci Guarda le piccole cose della vita Anche un raggio del sole Parla con un amico Sono momenti belli Fecondi Che danno nobiltà alla vita Non dobbiamo cercare cose Che non hanno senso L'effimero Anche il guadagno E' fin Ma che cos'è Rispetto alla serenità Delle cose belle Il sorriso Come intendiamo noi E' come una primavera Il grande le celle Un quadro famoso La primavera di Botticelli Secondo gli scrittori E' un inna alla vita E' la bellezza E' un giardino Pieno di valori etici Morali eccetera Noi sorridiamo in quest'ottica E poi un ottimista Non può non tenere conto di queste cose Deve camminare sempre Nel mare del sorriso E il mare del sorriso Indubbiamente da serenità Alla nostra vita Anche nelle relazioni Con tutte le altre persone E viva l'ottimismo E ringraziamo il nostro Marco Mameli Bravo che ci illumina Bravo bravo Questo uomo Questo uomo Questo bonaccione Questo uomo Che ha ingoiato cinque enciclopedie Questo uomo che non dorme Pensate che quest'uomo Dorme due ore al giorno Non lo so Ma mi sono chiesto Ma esiste quest'uomo Un ologrammo Un ologrammo Un ologramme Comunque esiste Uno che dorme due ore Ma tu direi Ma tu ecco perché è tutto saggio Lui è saggio È saggio Perché non ha niente da fare 24 ore Due dorme E 22 Legge ascolto Guarda legge ascolto Guarda Io lo faccio Ma non mani come Ma non Diamo la linea Un attimo per cortesia C'è andata via Mi prendo male i capi Non la pensaccia Molto gentile Arrivederci Stavo dicendo Allora Per la strada Questa è Dove In maniera civile Come si è comportato Ha l'opportunità Tutti di dire la sua Poi Poi A parte che non me lo vado a cercare Purire l'articolo Giusto per C'è Un New York Times Che parla di noi Dell'articolo Buongiorno Come va? Bene Va bene Dove sei? Parma 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 Tutti pensano che io Non sia italiana Si è incredibile Guarda E appena ho visto da lontano Ho detto Una tedesca sicuro Con gli occhi chiari La faccia un po' tonda Lo so Lo so Ma tu sei proprio così Si sono proprio così Non è che vuole fare la tedesca lei Io ho due genitori italiani Italianissimi Ma tu sei qua in vacanza? No sono qua da quattro anni Sono venuta qua a lavorare quattro anni fa E non me ne sono più andata Hai visto? Hai visto? Qua arriva qualche giovane Sì certo Non è che nessuno arriva in Sardegna Il lavoro stagionale porta giovani Cioè siamo giovani che hanno voglia di lavorare Ovviamente Tu sei fissa qua Diciamo un po' sì un po' no Sei mesi qua e sei mesi Eh sì Mi muovo mi sposto Però diciamo che è una terra che Cioè di base sono fissa qua Senti ma a Parma esistono Cioè anche a Parma ci sono i poveri I poveri? Penso di sì È vero Penso di sì Adesso ma chiacchia ricco adesso Cioè nel senso i ricchi sono Sono più ricchi secondo me Cioè sono più poveri che i ricchi secondo me Senti ma se Eh sì sono più poveri Ma senti ma tu avresti una soluzione Se avessi il potere di poter cambiare le cose Per i poveri Beh io toglierei i soldi ai ricchi Cioè io equi Robin Hood No ma non per darli ai poveri Semplicemente per riequilibrarli Cioè ci sono troppe persone con troppi soldi E troppe persone con troppi pochi soldi Se tutti potessimo avere Una linea media Eh media Media Non media Eh ma il problema è che ora Quelli che erano mezzi ricchi Sono diventati mezzi poveri Sì Sì Eh Esatto Esatto Bisogna sempre vedere il bicchiere Mezzo pieno e non mezzo vuoto Però è la verità È la verità Però è la verità Va bene Come ti chiami? Elisabetta Elisabetta c'è un bel nome E non è tedesca No No Italiana Ciao 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 Buongiorno Non è che per forza deve essere tedesco Una Che Sembrava Ma quello non è lo chef Sì Ma lei non è lo Ma lei non è lo chef Sì Non ho capito Sono cinque minuti Mi sto prendendo una pausa Ma non stai facendo lo chef No Adesso mi sto prendendo un caffè Poi dopo Serve 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 i poveri Durante ogni giorno alla mensa Ecco Quando tu Servi i poveri alla mensa No i poveri E le persone normali Cioè persone sono Eh Queste persone Sono tutti proprio Messi male male Oppure ci sono anche persone che Effettivamente Non ti saresti mai aspettato di vederle lì Beh innanzitutto che noi Cioè io sotto il punto di vista da volontariato Intervengo sotto il punto di vista che Vabbè tu prendi i piatti e li porti Sì io faccio questo servizio qua Ma quando tu No ma io non guardo la situazione Non guardi le persone Ecco Però giustamente Ma è aumentato il numero di persone che arriva Sì diciamo che si oscilla intorno a 120 100 120 Al giorno Al giorno Al giorno sì Possessivamente sono sì dalle 150 180 persone giornaliere Cioè colazione Qualche volta ci sono anche nuovi Anche nuovi Qualche d'uno sì Qualche d'uno sì Mi ricordo che questa è una delle mense Perché poi ce ne sono tante altre Per fortuna devo dirlo sparpagliate Sì c'è quella del Don Pastore C'è quella delle sue di Calcutta Ce ne sono tante Per fortuna E' bravo ad averlo ricordato Ma soprattutto Giustamente Come tu stai lavorando adesso Nell'edizione del miracolo di Natale E' appunto per quello Dunque Anche quello è un aiuto Che va Che va a dare una mano d'aiuto generalizzata Adesso devi andare a servire loro Sì infatti guarda sta per passare il pulma Niente vi auguro una buona giornata Buon lavoro Bravo capito Ecco lui adesso L'ho fermato per questo motivo Perché lo so che lui va a servire In mensa Insomma 180 persone al giorno Ricordatevi che non è l'unica mensa Ce ne sono varie 180 di qua 200 di là 100 da un'altra parte Poi sono tanti E queste persone che vanno a mangiare in mensa Oltre queste dovete calcolare che ci sono poi le famiglie Che vanno sempre in questi centri E vanno a prendere le buste della spesa una settimana sì Una settimana no Per almeno Almeno Tentare di pareggiare i giorni E ogni giorno Organizzare un piatto diverso O anche simile Ma basta che ci sia un piatto a tavola Diamo la linea al direttore Eccoci qua siamo rientrati E giustamente mi dicono dalla regia Mi dicono dalla regia che devo ricordare che anche quest'anno ci sarà il miracolo di Natale Una grandissima edizione di solidarietà Che coinvolge più di 20 comuni della Sardegna Da nord al centro a sud da est a ovest Stanno sparpagliate E questa bellissima gente aiuterà tanta gente Questo è lo scopo umanitario di questa manifestazione Che si svolgerà a dicembre Detto questo Io direi di dare la linea a quei signori che stanno in cucina ancora per poco Ancora per poco Io gli cambio la trasmissione Questi non vanno buoni a figli poco Vedi mi viene all'ansia solo a dargli la linea Roberto e Gavino Buonasera amici salutiamo Peppe che oggi non l'abbiamo ancora visto Sono in studio Ecco in studio salutiamo che William Purtroppo io vi vedo Purtroppo questo è offensivo Ha visto? No ha detto che purtroppo ci vedo Tra l'altro l'abbiamo visto ancora su Scovaroli E ancora non è visto Allora terza ricetta Oggi mi scaldo io malamente Stai calmino perché oggi Terza uova strapazzate con bottarga e nasparagi E' detto Avevamo detto Avevamo detto Avevamo detto Ciao Che tristezza E non so nemmeno il nome Nemmeno io so chi Che tristezza Forse non torna più Forse non torna più Sarebbe quello che ti vuole Andiamo avanti con sta ricetta Ma signore mi scusi ma lei Non si passa davanti alla telecamera Ma che fa? Lei tocca No come ti permette di toccarla Questa è un'impresa di pulizia Vai vai Allora ragione Peppe di buono gira Allora Uova strapazzate con bottarga e asparagi Sbatti le uova con delicatezza Sbatti Le uova con un pizzico di sale e pepe Ecco E il sale e pepe sempre incontro a me Perché? Perché non mimmi una padella Le butti una padella Perché padella non è in questo momento Lei ha le padelle Non le vede? Lei ha le padelle C'è una cucina da tonnello Ah me lo sono dimenticato Te lo sei dimenticato Allora una padella cuoci le uova strapazzate Faccia le uova strapazzate Eh devi fare le uova strapazzate Le sai fare Bravo Bravissimo La metterà in grado di borcheria Perché ride lei? Perché ride? Perché mi ha contagiato lui Questa è la ragione Allora una strapazzata Aggiungi gli asparagi Dunque devi aggiungere gli asparagi Faccia un asparago Aggiungi un po' sta tavola che ce la mi coi Faccia un asparago Non faccia lo spiritoso Ma faccio subito l'asparago Asparagi Innanzitutto mi arriva una gastrole Non lo ho questo Se la vado tranquillo Grazie per la doccia E' il tergicristano No 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 Finita la sta ricetta Ma che ricetta però Vuole troppo veloce Ti devi muovere Eh io poi mi incarsino Aggiungi gli asparagi Detto lessati E devi lessarli Deve fare la lessatura Faccia il lessato Questo mi è piaciuto Questa volta Lui vuole i mimmi Ma stavo guardando il soffitto Io sto guardando il cappello dell'altro Sembra un po' Un pittore Io ti difendo sempre No aspetta Carissimi amici Lui c'ha il problema che c'ha La specie di scivolo Cosa fai tu figlio Io ti difendo Ma come l'ha messo il cappello Mestelo bene sto cappello Mestelo bene sto cappello Che è bellino così dai Ignoranti che non serve Chiudete questa ricetta Le sartine tagliate là A pezzetti E la bottarga grattugiata Dunque la ricetta è conclusa Ecco e allora si dice servire Servire una scivuta Salutate Ma questa scappa Io mi rifiuto di lavare Salutiamo Chi me l'ha fatta fare a me Chi te l'ha fatta fare a me E ringraziamoli ovviamente A tutti e due Diamo Rapidamente a questo punto Acceleriamo Diamoci una svolta Anche perché io mi sto proprio addormentando qua La pace Silenzio Tombale Io ero abituato a grandi città Come se stavi seduto su una panchina Passava la gente Olè 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 E sei seduto Non passa nessuno Niente Pure gli uccelli non passano più Neanche le tartarughe Niente Una scuoletta Niente Non passa più nessuno Siamo nel deserto Eccoci qua Stiamo tornando Caro direttore Noi continuiamo Questo viaggio Che poi questo viaggio Caro direttore Lo stiamo facendo Perché come ben detto lei Si avvicina Si avvicina Si avvicina il miracolo di Natale E quindi pertanto E' giusto anche cominciare Anche noi a ricordare Questo evento Che avviene a dicembre Ogni anno In tanti comuni della Sardegna E Diciamo Tra non molto Diremo anche la data E poi chiaramente Ci affideremo Come sembra a voi Perché siete voi Le formichine Che poi portano le buste della spesa Che vi ricordo Servono Per conservare Tutto questo cibo Per poterlo poi distribuire A mani pieni Per cinque mesi Sei mesi Sette mesi Più ne portate E meglio è Questo è quanto Ma poi Entreremo In merito Al miracolo di Natale Con più dettagli Nel frattempo Se volete curiosare Basta mettere Su Youtube Miracolo di Natale 2022 2023 E vi fate un'idea Non ho capito Eh Che sei Ma quello Gerardo è patti Ma fammi piace Ma Ma non diciamo assurdità Ma facciamo le persone serie Facciamo 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 le persone serie Allora caro direttore Torniamo a noi Mettiti poco poco Più qua Fermo così A poco Più qua Bisogna passare piano piano Allora Allora Calma calma Non ci facciamo prima Buongiorno Come va Senta ma Ah Volevo Io Sono quasi vicino Alla soluzione Del problema Diciamo caro direttore Che bene o male L'unica cosa che ho capito Io In questa Che sto capendo Io Attraverso le Interviste che facciamo Alle persone Che incontriamo Eh Come la spieghiamo questa cosa E che La politica Centra La chiesa Centra Anche se la chiesa poi in qualche maniera Aiuta In qualche maniera Anche la politica aiuta I ricchi secondo alcuni sono troppi C'è troppo di vario tra un ricco e un povero Quindi magari come dicevo che la ragazza di Parma Elisabetta Mettere Cercare di Non dico pareggiare Ma fare in modo che Eh ma queste sono Utopie Utopie Ma io mi auguro che un giorno possa accadere una cosa del genere Metterei a ballare sui tavoli Se accadessero una cosa del genere Ma Mai perdere la speranza Così si dice Mai perdere la speranza Anche se c'è un detto che dice Chi di speranza vive Boh L'esperanza muore E' finita la puntata E' finita la puntata E' finita la puntata Noi ci vediamo domani Dovevo dire qualcosa di importante Vabbè lo dirò domani Domani facciamo una sintesi della settimana E racconteremo le varie Vice istituti Che è un aeroplano per caso Per un attimo mi sono Mi sono quasi emozionato Neanche gli aeroplani passano più E a volte mi chiedo Se io vivo in un presente presente O in un passato remoto Ma questa frase non dormo stanotte Io lo so già Mi conosco bene Adesso io devo capire cosa ho detto Ci vediamo domani Sono contento solo se Sono contento solo se Sono contento solo se